java la reazione che ci voleva dopo milano una grande prova da parte della squadra nella penultima gara di regular season ecco come giudichi la prestazione dei ragazzi ma grande prova non è stato molto grande prova loro ci hanno legato molto secondo me non avevamo giocato molto bene ma sono molto contento di tre punti che ci servivano ecco detto tu il risultato era la cosa più importante i giochi non sono ancora diciamo chiusi in alcune posizioni per il play off però quello che serviva per arrivare alla gara contro la lube nel migliore dei modi e secondo te cos'è che nei momenti più importanti della partita ha permesso a verona ecco di staccare gli avversari e comunque di ottenere il risultato pieno ma abbiamo creduto che siamo alla squadra più forte penso che non dovevamo arrivare neanche in questi fine del set appunto punto perché eravamo nettamente più forti eravamo sempre più avanti ma con le nostre stronzate si può dire con le nostre con i nostri errori li abbiamo fatto sempre riprendere riprende il gioco che secondo me non è stato molto positivo però dobbiamo dobbiamo guardarlo dal lato positivo che possiamo imparare da questo perché adesso ci aspetterà la partita decisiva di questo di questo regolar season io credo fortemente che saremo pronti a vincerlo